Trovare alternative al progetto nell'area Exitalgas è l'oggetto della mozione approvata nel Consiglio Comunale di Chiavari. La giunta è contraria al cemento e spera in una soluzione di buonsenso. Messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari, iniziati carotaggi, il terreno sarà analizzato nel magazzino comunale di Caperana. Vale la pena investire nella pallanuoto, l'atleta a medaglia d'oro in Corea ha ricevuto una targa dall'amministrazione di Chiavari, si tratta del campione Stefano Luongo. Buone notizie per Santo Stefano Daveto, dopo tanti anni di abbandono due imprenditori sono interessati all'acquisto dell'ex colonia Piaggio, la trattativa in corso. Bandiera verde, bandiera blu e spiga verde, Lavagna è l'unico comune Ligure ad avere tutti e tre i vessilli. Ultimato il progetto per la costruzione di una casa di riposo a Mezzanego, a settembre sarà avviata la gara, si tratta di un project financing da 10 milioni di euro. Sestri Levante mette mano alla sicurezza del territorio, ha prontato un intervento per la sistemazione della frana della Maddonnetta tra Riva e Moneglia, a breve la manutenzione dei torrenti. Pronta all'inizio del nuovo campionato di serie D, la Lavanese si presenta alla città con i suoi 100 anni di storia e lo sguardo sui giovani, obiettivo la salvezza. Agosto si chiude con un bilancio soddisfacente per il turismo in riviera, confermati i dati degli scorsi anni, con qualche flessione sul fronte alberghiero, il Tiguglio meta a misura di famiglie. L'appalto per i lavori di copertura del San Francesco a Rapallo verso la risoluzione contrattuale, troppi ritardi nel secondo lotto. Aperta a Calvari la 35esima edizione di Expo Fontana Buona, con una promessa, la città metropolitana rimetterà in discussione i progetti per la valle, in esposizione tra gli stand l'arte del saper fare. Un saluto a tutti, bentornati al TG Guardando la settimana, il nostro focus sui servizi e sui temi dei quali abbiamo parlato negli ultimi sette giorni. Iniziamo dal lunedì, ci siamo concentrati sul Consiglio Comunale di Chiavari, in particolar modo dedicato al futuro dell'area ex Italgas, un consiglio richiesto da una parte della minoranza. Durante il dibattito, a causa di uno screzio tra maggioranza e opposizione, il sindaco Marco Di Capua ha deciso di escludere il consigliere Giovanni Giardini dalla maggioranza. Ma tornando sul futuro dell'area ex Italgas, vediamo i servizi con le interviste alla minoranza e al sindaco Di Capua. Perché la richiesta di un Consiglio Comunale per far chiarezza su quello che riguarda l'area ex Italgas? Abbiamo voluto chiedere un Consiglio Comunale per conoscere un po' lo stato dell'arte della situazione. Perché dopo l'ultimo Consiglio Comunale, già convocato da noi minoranza alcuni mesi o sono, c'erano stati degli impegni da parte del sindaco di scrivere una lettera al Ministero di Grazie e Giustizia, alla divisione penitenziaria proprio, perché lì vicino c'è un carcere, e a sentire dei vari giuristi per poter verificare la possibilità di bloccare. Di bloccare il progetto che prevede circa 12.600-13.000 metri cubi di nuove residenze in Piazza Roma. Quando si affronta un problema così complesso, ad un certo punto ci sono due soluzioni, due modi di agire. O si continua a cercare responsabilità, cosa che è successo ad esempio nell'ultimo Consiglio, c'è stato un ripallo di responsabilità tra chi, perché, per come, oppure si comincia a pensare alle soluzioni. E poiché sembrerebbe che nessuno voglia questa edificazione in Via Trieste, credo che oggi sia giunto un momento in cui Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, che del resto sollecitano e stanno spingendo proprio per questo, si mettono intorno a un tavolo per dare anche una risposta al Comitato. I punti sui quali volete chiarezza da parte dell'amministrazione, quali sono? Uno, se si sono rivolte a dei legali o a dei tecnici specializzati per capire come fermare il progetto. Secondo, come mai è andato avanti il progetto, inspiegabilmente, per un anno e mezzo, senza che quelli dell'amministrazione ne prendessero coscienza veramente. E terzo, se il sindaco e l'amministrazione hanno avuto risposte dal Ministero di Grazia e Giustizia e se quindi il sindaco convocherà una conferenza dei servizi per rivalutare l'intero progetto. Da parte vostra avete delle proposte circa quest'area? Da parte nostra avevamo delle proposte che erano già nel nostro PUC, presenteremo un ordine del giorno, stasera in Consiglio Comunale e speriamo che lo votino per bloccare il progetto e intavolare con Italgasso un nuovo discorso su parcheggi e servizi al cittadino. Mettiamoci intorno al tavolo, cerchiamo delle soluzioni, anche qui sembra che io stia cercando le colpe, non mi interessano, dobbiamo trovare soluzioni per evitare che questa cosa accada. Bloccare il progetto è una parola forte, si tratta di un'area privata e come tale va rispettata ai sensi di legge se questa ha un diritto di costruire. La Commissione di Lizia ha fatto il suo iter, se tutto è regolare come presumiamo è evidente che vi sia un diritto acquisito. Tuttavia noi abbiamo voluto far votare un ordine del giorno per impegnare il sindaco in primis e tutta la Giunta a trovare alternative al progetto così come è stato presentato. Quindi questo significa sedersi a un tavolo con la proprietà e cercare alternative. Sa di fatto che quest'area qui, Italgas, qualcosa deve essere fatto via una conferenza dei servizi deliberante che riguarda una bonifica da effettuare e via un ingresso dell'ex Palazzo di Giustizia come è stato costruito rivolto verso Via Trieste, per cui è evidente che questa zona dovrà essere oggetto di un determinato tipo di intervento. Avete avuto una qualche risposta dal Ministero per la questione della vicinanza agli edifici sensibili, carcere, tribunale? Ho mandato una PEC al sottosegretario Ferraresi della Giustizia e al capo di Gabinetto riferimenti datemi dall'onorevole Traversi del Movimento 5 Stelle. Ad oggi non ho avuto nessuna risposta. Il desiderio della vostra amministrazione per quell'area qual è? Cemento oppure no? Sicuramente questi palazzi così non ci piacciono, per cui è vitale la costruzione. Ripeto, stiamo parlando di un'area privata con dei determinati diritti, a fronte anche di atti del 2005, dove loro, a fronte della cessione dell'area dove è stato costruito il palazzo per 14.000 euro, gli era stato riconosciuto 6.000 metri quadrati. Questo progetto è meno della metà. Sono convinto che col buon senso di tutti troveremo una soluzione a questo problema. Sicuramente la città non ha bisogno di ulteriori abitazioni, abbiamo già altre case in costruzione sul lungomare, abbiamo tante case in vendita nelle agenzie immobiliari, per cui cercheremo di far sì che questi palazzi non vengano su nei limiti della legge, nel rispetto e con un consenso della proprietà. Nella giornata di martedì ci siamo occupati sempre a Chiavari dell'inizio dei carotaggi lungo tutto il corso del Rupinaro. È infatti arrivato un macchinario per portare avanti i sondaggi per la messa in sicurezza del corso d'acqua. Ma abbiamo parlato anche di sport perché il campione Stefano Luongo, che ha vinto recentemente con la Nazionale il Mondiale di Pallanuoto in Corea del Sud, è stato premiato dall'amministrazione comunale chiavarese. Vediamo entrambi i servizi e poi ci ritroviamo in studio. Sono partiti stamani i carotaggi sul letto del Rupinaro. È arrivato infatti il primo macchinario necessario per i sondaggi, finalizzati a comprendere lo stato di salute del torrente e a calibrare gli interventi futuri di messa in sicurezza. Oggi inizieremo con le macchine più piccole, nella parte a monte di San Pier di Canne e in tutte le altre parti dove la macchina ha difficoltà a entrare per esigenze logistiche. Da venerdì arriverà la macchina più grossa, sarà proprio all'interno del Rupinaro, all'altezza del ponte dell'autostrada fino giù alla foce. Il materiale raccolto, le cosiddette carote di terra per una profondità di tre metri circa, verranno analizzate in un secondo momento. Provvisoriamente verranno per alcuni giorni messe qua a San Pier di Canne e dal palazzetto per poi essere portate a Caperana nel magazzino comunale dove verranno valutate insieme alla sovrintendenza tutti gli altri enti per le definizioni più precise e tecniche delle risultanze. Le indagini geognostiche partite oggi dureranno una quindicina di giorni. Finita queste indagini poi inizieranno le indagini spondali su tutte le arginature. Oggi iniziano i 60 giorni come da capitolato speciale d'appalto dove l'ATP entro il 29 di ottobre dovrà consegnare tutte le risultanze delle indagini e tutti gli studi che ha effettuato. Il terreno estratto sarà analizzato sotto due punti di vista, chimico per controllare l'eventuale presenza di inquinanti e geologico. Vediamo che tipo di terreno è, vediamo se sono delle alluvioni, se sono delle coltri per poi poter ricostruire il modello geologico di tutta la piana del Rupinaro compreso anche l'assetto idrico della falda idrica e dare poi tutti i dati agli ingegneri in modo che possono fare sia la progettazione idraulica che geotecnica. Le aziende lavoreranno a pieno ritmo per dare meno disagio possibile e concludere al più presto le indagini. In questa settimana dovremo iniziare e terminare i sondaggi nell'alveo, dopodiché in una ventina di giorni dovremo finire gli altri sondaggi. Dall'impresa della Corea del Sud a Chiavari qual è anche l'emozione di ricevere un riconoscimento dalla tua città? No, sicuramente è una grande emozione perché io che sono nato e cresciuto a Chiavari in questa piccola cittadina puoi arrivare a vincere un mondiale sicuramente a tratti impensabile però io sono l'identificazione che chiunque ci può riuscire. Che cosa vuol dire prepararsi a un mondiale, vincere? Ci si prepara per tutta la vita, io gioco da quando ho sei anni quindi da ogni giorno, ogni allenamento ci si prepara per quel risultato e poi diciamo molto più breve termine la preparazione dei mesi prima del mondiale che è stata veramente massacrante però quando si vince ci si dimentica tutto, è sempre bello. La vittoria del mondiale è sicuramente uno degli aspetti più belli e importanti della tua carriera, c'è stato invece un aspetto brutto, difficile da superare che però ti ha insegnato ad andare avanti? Le sconfitte anche sportive, quelle più brucianti sono quelle che insegnano di più, io ho avuto anche qualche problema fisico durante la mia carriera che mi ha provato proprio caratterialmente e psicologicamente però superare questi momenti poi ti porta a un livello di forza mentale che comunque ti fa affrontare certe dinamiche, certi palcoscenici in una maniera diversa. Vale la pena oggi continuare ad investire sulla palla nuoto? Secondo me assolutamente sì, anche le nuove regole hanno dato maggior vigore, maggior visibilità e anche maggior possibilità ad altri paesi diciamo fisicamente meno avvantaggiati di poter giocare comunque ad altissimo livello quindi ora più che mai ne vale la pena. Sul nostro territorio come ti sembra la situazione di attenzione a questo mondo? Prima c'era un po' più di attenzione, adesso io spero che anche con questa ventata di ritorno ad esempio mio come era stato per Maurizio Filungo nel 2011, spero di poter vederla chi avrà in nuoto tornare dove si merita. Siamo a mercoledì dall'entroterra alla costa, iniziamo da Santo Stefano Daveto dove sono arrivate buone notizie, dopo anni di abbandono infatti l'ex colonia Piaggio interessa due imprenditori, la trattativa è in corso, si parla di un progetto che potrebbe essere molto importante per lo sviluppo dell'area. Per quanto riguarda la costa invece andiamo a Lavagna che è l'unico comune Ligure ad avere tre bandiere insieme, la bandiera blu, la bandiera verde e la spiga verde. Vediamo i servizi. Nell'udienza del 3 luglio scorso il Tribunale fallimentare di Genova non ha messo all'asta l'ex colonia Piaggio di Santo Stefano Daveto. La perizia infatti stima a 5 milioni di euro il valore della storica struttura, un costo sovrastimato visti i tempi che corrono e l'investimento che sarà necessario per la ristrutturazione. A raccontarlo il sindaco Giuseppe Tassi che svela la presenza di due imprenditori intenzionati ad acquisire l'immobile dopo anni di abbandono. In questo senso l'udienza di luglio è fondamentale, permette infatti l'acquisto ad un costo inferiore, cosa che potrebbe andare bene ai creditori che hanno in mano l'ex colonia. Una scelta di buon senso dunque. La stessa udienza fissa intorno al prossimo 20 settembre il termine per giungere ad un accordo, spiega ancora Tassi. Se l'interesse di uno dei due imprenditori coinvolti dovesse andare in porto, potrebbe chiudersi l'esperienza della curatela fallimentare, con la possibilità di dialogare direttamente con gli intermediari dei creditori. Siamo fiduciosi perché la trattativa è già in corso, spiega il primo cittadino di Santo Stefano, che per ovvie ragioni non vuole svelare i nomi dei possibili acquirenti. Il Comune spera che l'ex colonia possa diventare un luogo attrattivo per i turisti, anche d'inverno, con un'offerta che prevede ad esempio piscine, bagni termali e spa, così da ovviare ad un'eventuale assenza di neve sulle vette. Prosegue Tassi, noi come amministrazione possiamo agevolare l'iter, per il resto i nostri sono solo consigli. Diciamo no tuttavia a mini appartamenti o a grandi residence di cui il nostro territorio non ha bisogno. Questo progetto garantirebbe 30-40 posti di lavoro sicuramente alla popolazione di Santo Stefano e quindi avremo persone che rimangono in zona, che presidono il territorio e che quindi vivono veramente il paese, vivono la Vallata. Infine sta per andare in porto il progetto di rifacimento del campo sportivo per renderlo idoneo agli allenamenti delle squadre di Serie A e B. Il progetto c'è già e i lavori potrebbero partire in primavera. Un piano da un milione e mezzo di euro di investimento, la maggior parte verrà messa dalla Virtus Entella. Bandiera verde, bandiera blu, spiga verde. Sono i tre vessilli che il comune di Lavagna può vantare di sventolare quale riconoscimento ricevuto per la vivibilità del suo territorio. A parlarne oggi il sindaco, che si è detto orgoglioso di essere l'unico comune in Liguria ad avere tutte e tre le bandiere, il secondo nel nord Italia insieme a Caorle. Particolare la bandiera verde, conferita a quelle località balneari con caratteristiche a misura di bambino, attraverso un'indagine condotta dai pediatri. Come dire che le spiagge di Cavi e Lavagna sono consigliate per i bambini. Valutano tutta una serie di parametri e danno degli punteggi secondo i quali i bambini hanno una loro naturale familiarità e condivisione con tutti gli aspetti del territorio. Attenzione che parlare di bambini vuol dire parlare anche delle famiglie perché dietro a ogni bambino c'è una famiglia per cui i parametri assunti da tutti i pediatri considerano proprio tutti questi aspetti e quindi è una visione a 360 gradi e un monitoraggio a 360 gradi di tutti i servizi che il comune di Lavagna può offrire. E mentre la bandiera blu per la qualità del mare sventola Lavagna da 27 anni, la spiga verde è una conquista degli ultimi quattro e riguarda lo sviluppo ambientale e dei prodotti a chilometro zero. Questa mattina infine il sindaco ha fatto anche il punto sull'estate 2019 che ha fatto segnare sino ad oggi un incremento della tassa di soggiorno. Vuol dire che dal punto di vista delle introiti e quindi delle presenze sul territorio c'è stato un incremento rispetto alla stagione 2018 e non possiamo che essere assolutamente contenti di questa situazione. Situazione che è in corso di monitoraggio perché la tassa di soggiorno è monitorata ovviamente fino al scorso mese di luglio. A metà settimana siamo andati a Mezzanego per parlare con il sindaco del project financing che riguarda la costruzione di una casa di riposo in località Pralungo. Si tratta di un progetto ambizioso da 10 milioni di euro. A settembre partirà la prima gara. Seguiamo l'intervista. E' stato ultimato il progetto per la costruzione di una residenza per anziani a Pralungo di Mezzanego. Depositati in comune gli ultimi pareri positivi, quelli di Asle 4 e Vigili del Fuoco, a settembre l'amministrazione bandirà la prima gara d'appalto. Se sarà giudicato troveremo l'operatore e permetterà di dotare questa valle, questo comune di una struttura all'avanguardia in materia di RSA centro per l'Alzheimer e di creare anche tanti posti di lavoro. Si tratta di un project financing ambizioso che prevede un investimento di circa 10 milioni di euro. Per questo chi avrà la gestione otterrà una concessione di 50-60 anni per poter rientrare dei costi di costruzione. Ci sarà un cano di concessione che sarà versato al comune, creerà circa 50-60 posti di lavoro, ci saranno anche tariffe convenzionate per i residenti e permetterà di avere una struttura veramente all'avanguardia perché sia come standard qualitativo per gli ospiti sarà anche dotata di piscina riabilitativa che negli orari serali sarà aperta anche al pubblico. Il piano d'opera prevede la realizzazione di un immobile di sei piani, di cui due semi interrati, per un totale di 4.500 metri quadrati di superficie calpestabile. Ospeterà 93 posti, di cui 14 saranno riservati al centro per l'Alzheimer, super specializzato, con anche giardino protetto, stanze di stimolazione sensoriale, poi ci saranno una quarantina di posti per i DRSA, poi ci saranno 13 posti per il centro di urno. Il resto dei posti della struttura, che in totale sono 93, sarà dedicato ai posti acuti, che si tratta di soggetti che sono stati ospedalizzati, però i protocolli attuali degli ospedali prevedono che dopo pochi giorni la dimissioni, però non potendo rientrare nelle proprie cade, nelle proprie famiglie, verranno ospitati qua, dove faranno un percorso riabilitativo, da qui la presenza anche della piscina. Nella giornata di venerdì ci siamo concentrati su Sestri Levante, che mette mano alla sicurezza del territorio. In particolar modo sono partiti i lavori di sistemazione della frana della Madonnetta tra Riva Trigoso e Moneglia, ma si parla anche di lavori sui corsi d'acqua. E poi lo sport, perché si è presentata ai suoi tifosi la lavagnese calcio. L'obiettivo per quest'anno è ottenere la salvezza. Vediamo i servizi, poi ci ritroviamo in studio. Intervento di manutenzione straordinaria, ieri mattina, per sistemare la frana in località Madonnetta, nelle gallerie tra Riva e Moneglia. I lavori, resi necessari di uno scollamento di alcune pietre, rilevato dai sensori, sono stati finanziati con 35.000 euro di fondi comunali. Con un elicottero sono state rimosse le griglie di contenimento della frana, è stato ripulito dalle pietre che nel frattempo continuano a cadere perché quella è una frana scisa che pur contenuta, sono state riposizionate le griglie e sono in manutenzione gli strumenti di ricevazione dei movimenti in modo da riposizionarli a brevissimo nei prossimi giorni e avere, come abbiamo avuto in questi mesi, il monitoraggio della frana. Quindi diciamo che questo intervento di manutenzione ci ha consentito di ripristinare la sicurezza di quella parte, di quella porzione del mercante. Diciamo che si tratta di un intervento sostanzioso e consistente che comunque dovrebbe scongiurare il rischio di ulteriori chiusure come ci sono state in primavera? Infatti, poi come si sa sulle frane è difficile fare previsioni assolute, però questo intervento scongiura chiusure in quel punto e davvero si prepara a gestire al meglio nella stagione dei temporali, nella stagione appunto delle maggiori piovosità, quella problematica consentendo il passaggio veicolare nelle gallerie. Oltre alla frana, Sestri Levante sta già provvedendo da metà agosto alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua, con lo sfalcio della vegetazione in eccesso e il ripristino di porzioni degli argini. Il costo complessivo sarà di circa 90.000 euro, di cui 13.000 provenienti dalla regione, i restanti dal bilancio comunale. I lavori ai torrenti dovrebbero essere ultimati intorno al 20 settembre. C'è stato fatto il rio Saffora, il rio Barti, il ravino, in modo da essere pronti per la stagione autunnale e a rendere il più libero possibile il letto dei rie e dei torrenti e dalla settimana prossima inizieranno lavori un po' più strutturali sui torrenti più grandi, Gromolo e Petronio, oltre che interventi di pulizia della vegetazione infestante, anche interventi di risistemazione dei muretti e dell'arginatura e laddove ce n'è bisogno. Si riparte per una nuova stagione? Si riparte. Sappiamo che sarà una stagione difficile. Il girono l'abbiamo visto, è tosto. È una squadra nuova, però la società, come ha fatto sempre in questi anni, è ripartita, prima che dal giocatore, è ripartita da delle persone, da dei ragazzi a modo. E questo credo che sia poi quello che ci potrà fare la differenza. Il capitano è una bandiera? Eh sì, adesso sono tanti anni, sono 11 anni, e tante, tante presenze, più di 300, 350. È tutto pronto per la partenza? Domenica si parte? Sì, domenica si parte, affrontiamo il Ghivizzano in casa. Secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, il lavoro di staff, il lavoro di squadra, è stato ultimato in quasi tutti i dettagli, ci mancano solo due giorni, siamo all'antivigilia. Posso dire di essere molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto quest'estate, siamo pronti per i nostri di partenza. Ogni anno credo che sia difficile mettere insieme un gruppo, e ogni anno ci riuscite sempre. Eh sì, perché è stato in questi ultimi anni un po' difficile, un po' con tutti i problemi del comune, un po' tutte le tante cose, però siamo riusciti a compattare quest'anno, vicino a Avellino e a Basso, che sono le due colonne, dei ragazzi giovani molto bravi, veramente. Bravi, con entusiasmo, con un allenatore che farà molta strada, perché lo ritengo veramente molto bravo. Obiettivo è la salvezza. Certo, quella è la cosa principale. È stato anche un riconoscimento del nuovo sindaco, con un piccolo riconoscimento. Certo, è stato un riconoscimento, è stato un riconoscimento che ha fatto molto piacere, nonostante, come ha detto lui, i problemi, c'è qualche problema ancora nel comune, però cercheremo di risolverli assieme nel migliore dei modi per far andare avanti questa società. Nel fine settimana non si poteva parlare di turismo, infatti si chiude il mese di agosto, è un turismo che ha portato risultati positivi con qualche flessione per quanto riguarda gli alberghi nel nostro territorio. Il Tiguglio si conferma una meta a misura di famiglia. Sempre nella giornata di sabato abbiamo parlato anche dei lavori di copertura del torrente San Francesco-Arapallo. Si va verso la risoluzione controattuale. Troppi ritardi, dice l'amministrazione, nel secondo lotto. Comune e Regione valuteranno altre soluzioni. Sentiamo. Il Tiguglio rimane una meta ambita per i turisti italiani e stranieri. Il 2019, pur essendo un anno di leggera flessione, sta confermando come la riviera Ligure sia appetibile per una larga tipologia di viaggiatori. Alcune le criticità a cui far fronte, dal crollo del viadotto autostradale del 2018 che rende più complicati i collegamenti con il Ponente, le mareggiate dello scorso autunno che hanno danneggiato in modo consistente Portofino, Santa Margherita e Rapallo e un maggio insolitamente piovoso che non ha permesso di capitalizzare il primo mese con potenzialità turistiche. Il Tiguglio continua ad offrire proposte turistiche differenziate, con località più gettonate tra gli stranieri che si fermano a lungo e altre preferite dagli italiani per la loro comodità nell'essere raggiunte. Il fatto di avere molta spiaggia, molti servizi, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Siamo venuti in treno. Siamo venuti in treno, infatti non abbiamo preso i nostri mezzi e poi perché la cittadina comunque è carina, pulita, se ben servita, ha molti servizi e quindi questo ci ha spinto a fare la giornata qua. Agosto rimane il mese con maggiore affluenza, anche perché è storicamente il mese delle ferie per gli italiani, in cui i soggiorni si dilatano leggermente come durata. Il soggiorno medio è infatti di due o tre giorni, generalmente circoscritti al weekend, in cui moltissimi residenti del nord Italia cercano rifugio dalla festiva. Meno gettonati i giorni feriali, anche se alcune località, più a portata di mano, diventano meta anche di turismo giornaliero. La maggiore attrazione del territorio rimane sempre il mare, adatto ad ogni tipologia di villeggiante, famiglie, coppie, gruppi di amici, sia giovani che anziani. Sì, devo dire che è estremamente positiva, sia dal punto di vista dell'affluenza che dal punto di vista anche della qualità del turista che viene in queste spiagge. Noi abbiamo anche l'acquaparche, quindi l'affluenza anche da parte di genovesi che vengono in riviera con piacere, che vengono bene accolti, e ci aiuta a fare in modo che il flusso sia abbastanza costante e continuo. Naturalmente i weekend toccano il picco e durante la settimana c'è una specie di continuità e costanza che rende piacevole la permanenza. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a richiedere questa risoluzione? Principalmente i motivi sono dei gradi inadempimenti che si rappresentano rispetto ai ritardi dell'esecuzione dei lavori. Diciamo che una parte dei ritardi sicuramente è giustificabile con la moneggiata e il disastro che c'è stato a fine ottobre, però una parte chiaramente noi la scriviamo al ditta. A che punto presumibilmente dovrebbero essere i lavori per la copertura del San Francesco? Diciamo che al momento se non avessimo avuto particolari ritardi dovremmo essere quantomeno a buon punto sul secondo lotto del primo strage, cosa che oggi per il secondo lotto non è ancora cominciata. A questo punto, posta la scelta dell'amministrazione, qual sarà il procedimento, quale sarà l'iter che verrà seguito? A questo punto dobbiamo attendere l'eventuale risposta sulla risoluzione contrattuale. La ditta ha 15 giorni di tempo per produrre le loro controdeduzioni e a quel punto faremo un attimino la sintesi di quello che è. Potrebbe esserci una risoluzione consensuale quindi con un accordo possiamo definirlo bonario o diversamente un contenzioso. Nel contempo con Regione Liguria valuteremo come eventualmente nel caso di risoluzione definita portare avanti i lavori. Avete già qualche idea? Abbiamo principalmente due idee se non tre, quindi la terza sarebbe che la risoluzione andasse a buon fine ma credo difficile. Le altre due opzioni sono o mettere a bando il secondo lotto del primo stralcio insieme al secondo stralcio del San Francesco o diversamente far completare l'opera dalla ditta seconda nella gara originaria. Siamo così all'approfondimento che questa settimana è dedicato alla 35esima edizione dell'Expo Fontana Buona a Calvari, a San Colombano e a Certenoli. Quest'anno tanti gli espositori e mostra soprattutto l'arte del saper fare. Sentiamo tutte le interviste. Quale novità più importante? Sì, le novità direi che gli espositori sono tantissimi. 43, abbiamo veramente riempito tutto ma la novità vera è che il prossimo anno potremo averne veramente molti di più perché Città Metropolitana ha stanziato risorse per fare in modo che anche l'altro padiglione il padiglione del geodetico possa ospitarci e dare la possibilità quindi a questo Expo di aumentare sensibilmente lo spazio espositivo. Per noi è un grande successo questo. Presenta a sostenere la 35esima Expo. Per noi è un piacere poter confermare il sostegno anche quest'anno in forma piena a questa manifestazione che è un segnale della vivacità e della realtà della Fontana Buona e del Tiguglio. Magari con qualche difficoltà ma ogni anno viene sempre rinnovato questo appuntamento. Beh, quest'anno è stato particolarmente difficile ma tutto sommato l'impegno di tutti lo ha permesso la realizzazione. La Camera di Commercio promuove questa iniziativa con piacere. Assolutamente questo è uno dei quattro Expo che promuove la Camera di Commercio insieme alla Regione Liguria ed è nella volontà di animare tutto il territorio della città metropolitana genovese nella maniera in cui anche l'interno della città metropolitana abbia una rappresentazione adeguata della propria realtà economica. La valorizzazione del territorio non passa solamente dallo sfruttare le potenzialità di un prodotto Ligure di prima scelta ma anche dà un'attenzione maggiore nel trattare i rifiuti. Nella seconda giornata dell'Expo Fontana Buona si è parlato della nocciola Ligure misto Chiavari una varietà coltivata dal Medioevo ma la cui produzione è molto bassa non si superano i 200 quintali l'anno e va implementata. Allora sì la nocciola Ligure ha il valore delle persone che la coltivano e del territorio così purtroppo poco generoso come abbiamo in Liguria e quindi proprio perché queste valli è difficile coltivarla negli anni scorsi abbiamo abbassato la produzione quasi a zero. Adesso c'è la volontà con un marchio come quello che ha proposto la Camera di Commercio che è il misto Chiavari e con l'arca del gusto Presidio 2 Food di valorizzare un prodotto che ha un gusto e delle caratteristiche uniche. Quello che io sono qua a spiegare è che non è semplice in un territorio frazionato come quello Ligure trovare la disponibilità di tutti i proprietari per cui quello che si dice è cercare di fare squadra di fare consorzio e recuperando il territorio che purtroppo cade anche perché i noccioli hanno le radici molto profonde quindi mantengono le facce i terrazzamenti ci sono anche rifinanziamenti della regione per tenere pulite le facce Il secondo convegno della giornata ha trattato il tema del riciclaggio dei rifiuti soprattutto dell'umido la tipologia di rifiuto che più spesso per ignoranza o incuria è gettato con materiale non riciclabile che è estremamente importante perché toglie tanto peso dalla raccolta e quindi va a meno a intasare le discariche ed è bene che questo servizio sia fatto in modo oculato perché altrimenti il territorio ne ristende soprattutto i cittadini pagando una tassa sui rifiuti troppo onerosa Bene siamo giunti in conclusione ci ritroviamo domenica prossima grazie per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Telepace grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti